Siamo molto contenti e molto soddisfatti di presentare oggi in via ufficiosa, poi ufficialmente lo faremo anche giovedì, però diciamo che questo è un bellissimo incontro anche con i tifosi. Miguel è un giocatore di fama mondiale, uno dei più forti giocatori al mondo e quindi per noi è motivo di grandissimo orgoglio averlo qui a Pesaro, una grossa soddisfazione perché portare qui in Italia un giocatore di una fama così importante ci rende molto molto orgogliosi, ci siamo conosciuti da poco però visto che già si è trovato bene, si è ambientato bene quindi la cosa ci rende molto felici e speriamo così di fare una stagione bella, importante e speriamo che Miguel stia con noi per tanti anni, questa è la nostra speranza. Per prima cosa grazie a Lorenzo Pizza per tutto quello che ha fatto per me e per la mia famiglia, siamo molto contenti. Ringrazio i tifosi che sono venuti ad accogliermi, anche questo per me è motivo di orgoglio. Sono molto entusiasta e desideroso di iniziare ad allenarmi e competere con i miei compagni. Non vedo l'ora di unirmi a loro e conoscerli e di poter vivere una stagione molto positiva. Grazie soprattutto alla famiglia Pizza per l'accoglienza che credo sia fondamentale, c'è tanta fiducia in loro e nel progetto.